Oggi abbiamo un veicolo molto, molto, molto speciale. Venite a vedere, venite a vedere. Chevrolet Suburban. Cosa dirvi di questo veicolo? È il top di gamma. Guardate che immagine, guardate che frontale che ha questo veicolo. Potrei dirvi che è nero notalizzato, che ha l'interno con quella verge, che ha la migliazione, doppio petto, televisione, cambio automatico. Tutto quello che potete pensare ci sia su un veicolo, qua c'è. Questo non è un veicolo, è come una casa. Però non ve lo sto a dire, posso dire solamente che, guardatelo, vetri scuri. Cerchi mega cromati. Provo a inquadrare anche i cerchi mega, sono meravigliosi. le condizioni del veicolo, la versione è la LTZ, che è quello più bello. Comunque, le condizioni del veicolo, se volete vedere, è come nuovo, pari al nuovo. Elencare gli accessori su un veicolo di questo tipo è una cosa, è sprecato. L'unica cosa che vi posso dire è che in questi giorni ho visto le immagini del G8. Se avete notato, il presidente americano in Italia aveva questo veicolo. Ce ne sono pochi in Italia. Comunque, anche se ne andate su internet a vedere, il presidente Obama per i suoi spostamenti in America usa solamente questo veicolo. ovviamente il mio, non è l'entimo il suo, il suo ben dato è il mio nome. Grazie.